Ma bella, 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 tutto bene? Oggi ragazzi siamo ritornati su MetaMC e nella mia modalità, ovvero la sandbox. Voi vi starete chiedendo, Carpi, in che senso la tua modalità? Da quando è diventata tua? Guardate il mio personaggio di Minecraft, cosa notate di diverso? No, non sono diventato più scuro, tranquilli, sono sempre io. Sono diventato owner su MetaMC, cioè aspetta, non su tutto il network, ma nella sandbox perché sì, ho costretto Valli a farmi diventare owner. Hai fatto una pessima, pessima decisione. Prima di iniziare con il video, come al solito, dato che sapete benissimo che ogni volta che io divento owner, dovete assolutamente lasciare like, perché ciò mi farebbe capire che a voi piace questa tipologia di video. Quindi iniziate già da subito lasciando un bellissimo like. Che c'è? Aspetti che arrivi un'altra frase dopo? No, 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 prima lasci like e poi continuo a parlare. Ah, l'hai già fatto? No, non l'hai fatto bugiardo, vai a lasciare like, vai, vai. E di iscrivervi se ancora non l'aveste fatto, perché tanto è gratis e non vi costa nulla. Ma detto ciò, come andremo a trollare dei giocatori nella sandbox? Innanzitutto ragazzi, ci mettiamo in Vanish. Questo comando ci permetterà di diventare totalmente invisibili ed in incognito. E adesso abbiamo attualmente 22 persone, quindi ragazzi... 22 persone ragazzi non è croccante. Dai, forza, alziamo questo player count. Se vorreste allenarvi, ragazzi, guardate, c'è un sacco di roba croccante. Dai, su, per favore, volete rimanere scarsi? No, esatto, dai, venite qua ad allenarvi. Già ve lo dico, se vorreste trovarmi ogni tanto, quando ho tempo libero, spendo 10-15 minuti sul server a far PvP, perché voglio migliorare in diverse modalità. E attualmente sto giocando Sword, perché, non lo so, è un qualcosa di croccante. Ho fatto Crystal per i scorsi tipo 6-7 mesi. Però Sword, diciamo, è un qualcosa di nuovo per me. Ci gioco da una settimana e mezzo, due. Quindi sì, ogni tanto, se vorreste beccarmi, mi trovate di sera, perché di sera io... È un momento in cui mi rilasso, nessuno può dirmi nulla, ok? Lasciatemi stare. Io cucino i video per voi al mattino, perché al mattino bisogna svegliarsi tutti positivi. E di sera lasciatemi dare dove voglio, ok? Eh, no che mi stoccarate del solato su Discord. Ma detto, cioè, basta, oggi ho parlato troppo nell'introduzione. Cerchiamo di fare un qualcosa di croccante. Ora, nessuno sa che sono in Vanish e presente sul server. Io direi di teletrasportarci da qualcuno. Andiamo da Grizzly, no, è allo spawn lui. Dobbiamo andare da qualcuno che magari non è dei dintorni. Magari andiamo nella Sword FFA, qui. Andiamo a cosa posso fare qua. Magari, allora, intanto sono in Vanish e non mi dovrebbero vedere. A posto. GMC, posso farlo? Vediamo, posso spaccare i blocchi? Non è un problema, perché io conosco il comando per bypassare tutto. Mi hanno visto? Non sono in Vanish. Ma come faccio a non essere in Vanish qua? Piccolo, piccolo fei, piccolo fei. Tranquillo, risolviamo. Ok, ora sì, sono in Vanish. Ok, devo fare molta attenzione a questa cosa. Qua si stanno scontrando. Posso fare tipo in Vsi? Posso fare in Vsi? I'm not tipo. Posso fare tipo così? Prendo entrambe le spade e ti metto a far pvp a pugni? Posso farlo? Ho appena scoperto una cosa. Ora, gli mettiamo le spade di nuovo. Subitissimo. Ok, a posto. È un bug, bro. Tranquillo. Perché stai scappando? Dove stai correndo? Pensi di scappare dalla... Da avere le tue spade? Non sto capendo. Carpi, che Dio ti benedica. Ah, grazie. Ti ringrazio molto per le tue benedizioni. No, non sono io. Sono in Vanish. Lasciatemi stare. Ok, boys. Attualmente nella Sword PvP ci sono solamente... Ok, no. Cinque persone. Ok, va bene, va bene. Pensavo solamente due, eh. Rimarremo qui sulla sandbox e cerchiamo di teletrasportarci la... Andiamo tipo da Ginox. Vediamo che... Ma perché siete tutti allo spawn? Andate un po' a far pvp. Itanos 94. Oh, finalmente. Eh. Allora, togliamoci queste robe di rosso. Ah, non posso? Ok, va bene. Non posso togliermele di rosso. Faccio K1 e bypasso il sistema facendo così. GG. Ma se mettessimo il Warden, tipo... Allena ti col Warden, bro. Allena... Allena ti col Warden, bro. Allena ti col Warden. Allena ti col... Allena ti col Warden, bro. No way, ha teletrasportato pure Ginox. Allena ti col Warden. Attenzione a chi ti uccide. No way, stanno facendo Crystal PvP contro il Warden. A cosa sto assistendo? A cosa sto assistendo? È morto! Yo, yo, yo. Attenzione. Attenzione. Wow, 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 wow. Sto procedendo su, amico. Attenzione. Ginox, non hai totem? Oh, mio Dio, non avevo il totem. È morto? Croccante. Bravi, bravi. Ah, si stanno scontrando. Attenzione. Attenzione. Ma cosa succederebbe se... Di punto in bianco Ginox... Ginox non avesse più la primissima hotbar. Ginox, con cosa combatti, bro? Ah, hai ripreso il kit. È vero che possono prendere il kit? Facciamo così, allora. Scompare. E se l'hai ripreso. Scompare la spada. Prenderai pugni le persone? Yo! Che sta succedendo qui? Ah, controllo zombie. Ma se Ginox, di punto in bianco, si mettesse a volare... No, non vola. Ciao! Tanto si craccia. Let's go! Bravo! Reattivo! Si stanno allenando per la prossima guerra, ragazzi. Sono pronti a scontrarsi con chiunque non abbia lasciato il like a questo video. Wow! Bravi, bravi! Croccante, croccante! Non è croccante. Non è più croccante. Ok, siamo da Lemon Miss 23. Sta combattendo contro Simox 088. Dunque, cerchiamo di vedere cosa riesco a combinare qua. In Sea Leon. Lemon Miss. E stavolta gli invertiamo le mele con la spada. Let's go! Ok, si è sistemato l'inventario, sì. È morto. GG. No, all'ultimo! Simox, sei pronto a combattere senza spada? Ma che... Che inventario è? Yo! Ok. Ognuno ha il suo modo di giocare. Via la spada, bro. Vai, prendi la pugni, prendi la pugni, bro. Sto per morire. Comunque, ragazzi, giusto per precisare, questa è una modalità creata solo ed esclusivamente per allenarsi. Quindi, se muoiono, non perdono le loro robe. Tranquilli. È una sorta di campo di battaglia practice. Ecco. Ed è morto. Dunque, ragazzi, abbiamo qui Costa Game che si sta allenando contro lo zombie. E vediamo un attimo cosa... Ma perché scappa? Lo zombie è qui. Bisogna che ne spona un altro. Ok, eccolo qua. Effect. Give. Costa Game. Levitation. Infinita. Mettiamo... Dieci. Ok, boys, siamo da Grizzly AIDS. Ma che stai facendo, bro? Vuoi volare anche tu? Vuoi volare? E ti accontento. Ok, levitation. Oh, mio! Pensi di aver giusto, giusto un pochettino esagerato. Non pensavo che levitazione fosse così forte. L'antichit. Oddio. Ho fatto esplodere il server. Ho fatto esplodere il server. Oddio, Claire. Grizzly. Ok. Ora cadi. No, non cade. Ragazzi, è salito così velocemente in cielo che letteralmente ha raggiunto il livello 2044 di altezza. Ok, questi due si stanno scontrando. Neki e Matteo. Ok, Matteo. Matteo. Effect. Give. Matteo. Resisti, resisti. Resistance. Infinita. No, infinita no. Li diamo tipo per dieci secondi. Livello 30. Ok, adesso non morirà mai. Ovviamente ragazzi, per non dare troppo fastidio, eviterò di dare levitazioni o qualche effetto strano a persone che si stanno allenando o che stanno combattendo tranquillamente per i fatti loro. Però diciamo che questi sono duelli randomici dove la gente si fa RTP e poi dopodiché, ecco. Se vincono, vincono, se perdono, GG. Si passa al prossimo duello. Attenzione, Matteo. Matteo è ripartito. Matteo, tieni. Non morire. Matteo non morirà mai. Matteo non morirà mai. Non morirà mai, Matteo. No, Matteo, se mi aggiungo una mela d'oro ti ho dato appena resistenza a dieci, bro. Ok, non morirà mai, Matteo. Matteo è bravo. Matteo è troppo pro. Matteo è troppo pro. Attenzione. Eh, mo Matteo. Hai rechittato, bro. No, non vale in un duel. No, ragazzi. Se dovete fare 1v1, non dovete mai rechittare. Sono al bordo del mondo, Grizzly. Ah, raggiunto al bordo del mondo. Eccolo qua. Limite del mondo. Croccante, bro. Croccante, croccante. Facciamo così, ragazzi. Dato che un sacco di voi vorrebbero partecipare nei miei video, se questo video dovessero aggiungere i mille mi piace, farò un video organizzato con tutti voi. Preparatevi, ragazzi. Preparatevi. Un giorno vi dirò, ragazzi, entrate tutti innanzitutto sul mio Discord, che vi lascerò in descrizione. Però vi farò un annuncio in video, dicendo, ragazzi, entrate tutti a quest'ora e tutti voi potrete entrare. Ripeto, tanto il server è anche la Bedrock Edition, quindi per chi abbia voglia di partecipare, può farlo. Pure da telefono, volendo. Quindi tenetevi pronti, eh. Tenetevi pronti perché si cucina qualcosa qua. Oh. A cosa sto assistendo qua? Cosa sto avendo? Yo. A cosa ho appena assistito? Cosa succederebbe se Evil King, anzi, no, non Evil King, solo una banana ninnananita, ricevesse effetti strani? No, non funziona. No, gli utenti da Bedrock bypassano questa cosa. Eh, ora devo... Mi spiace. Devo darlo all'altro ragazzo. Dove sta l'altro ragazzo? È scappato. Vabbè, fa niente. Ho appena realizzato una cosa, ragazzi. Gli utenti da Bedrock sono immuni a determinati comandi. Oddio. 20 love. Cosa stai cucinando? Ok, mi sa che è FK. Uccidiamolo, dai. F give. 20 love. Wither. Gli diamo Wither per tipo... 20 secondi, livello 200. Tanto muore instant, guardate. Partito il totem? Io non è morto. Pensavo quel Wither andasse oltre il totem. Ah no, perché il totem ti toglie gli effetti negativi, se non sbaglio, giusto? Gli diamo Wither per 10 secondi, livello 250. Esatto. E ora muore. E' stato un piacere Averti davanti a me. Ti immagini ora non muore. Bro, no way si mu... Ok. Si svegliamo appena è finito l'effetto. Ok. Abbiamo lui. Taker Luigi. Si sottotira bro, mi spiace. Rimpiazziamo il nome da 20 love a Taker Luigi. Ciao. E non vola. Ok, si vola. Cosa appena è successo? Ok, è tutto rotto. Oh. Gli è partito il totem. Allora, mettiamoli l'evitazione 100. Questo lo fa... Questo funziona. Rimarremo qua finché non morirà dietro di me. Avete tempo, giusto, giusto tempo, che lui... Ok. Ok, boys. In questo momento abbiamo questo ragazzo di nome Vig K2 che si sta allenando. Mi spiace dirtelo bro, ma le previsioni dicono che oggi non ti puoi allenare. Ok. Il bro ha rotto le leggi della fisica. Croccante. Non è abbastanza 100. 150 invece non riesce a muoversi. È bloccato. Oddio. Alziamo il livello. Mettiamo per 5 secondi a 100 perché 100 è il numero migliore. Vediamo. Appena non ha nulla sopra la testa. 3, 2, 1. Ora. No! È stato un piacere. 3, 2, 1. Uh! Croccante! Bravo! Ultima vittima dei troll. Oggi abbiamo Gn0 Never Dies. Gino Never Dies. Facciamogli fare un volo, dai. Gino. Ciao bro, ci vediamo. Ciao. Quanto è bello spedire le persone nell'iperspazio. Si è svegliato. Si è svegliato. 3, 2, 1. Meno 1. Meno 2. Meno 3. Ok. Eh no, sono i cristalli buggati bro. Sono i cristalli buggati. Nope, non cadi. Miau! È un uccello? No, è un aereo? No! È Gino Never Dies. Infatti non è morto. Si sta riprovando. Il bro pensa che sia... Bro, è un bug. Te lo sto dicendo io. È un bug. Bro, vai. Vola. È un bug. Te lo sto dicendo. Un bug del server. Devono fixarlo. Mamma mia. Immagina, far esplodere i cristalli e fare un volo del genere. E il suo nome è Gino Never Dies. Ok, dai. Direi che con questo troll abbiamo pure concluso con questo video. Nel mentre che lui fluttua, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Vi invito a lasciarvi un bellissimo like e di iscrivervi se ancora non l'aveste fatto. E noi ci vediamo domani alle 15.30, come al solito, con un nuovissimo e fresissimo video. Iiii... Ciao belli.